Buongiorno a tutti e ben ritrovati con l'informazione di Molise TV, oggi è sabato 19 novembre e come di consueto iniziamo il nostro appuntamento dedicato alla rassegna stampa, leggendo insieme le notizie del quotidiano online Tutto Molise. In risalto l'articolo di Lucia Lozzi, non chiamatelo Euro, un libro che vuole informare i cittadini, scuotere la politica e l'Italia. L'unica via possibile per fermare una deriva europea antidemocratica ed economicamente suicida è quella che indica il professor Guarino. E poi il lavoro per quanto riguarda la filiera avicola molisana, il save the date è previsto al mese il prossimo 16 dicembre, ma i lavoratori optano per la costituzione di un comitato, stesso malessere per i 41 dipendenti della OTI per i quali si apre lo spiraglio della cassa integrazione. Continuiamo con il referendum costituzionale. Le ragioni per il no sono state illustrate nel secondo incontro promosso dal comitato articolo 21 di Petacciato alla presenza del giudice Daniele Colucci e del presidente della scuola Don Peppe Diana, Vincenzo Musacchio. Proseguiamo adesso il nostro appuntamento, leggendo insieme le notizie del quotidiano del Molise. A centropagina la cronaca giudiziaria Federfarma assolta la Iena Toffa sul caso delle macchinette obliteratrici, il giudice riconosce il diritto di cronaca. Per il giudice del Tribunale di Campobasso, Roberta Donofrio, il fatto non costituisce il reato. Campobasso la vicenda balzò agli onori della cronaca nazionale durante i servizi della nota trasmissione Mediaset. Nel taglio alto, vertenza zuccherificio, operai allo stremo, la protesta continua e poi gioco d'azzardo, slot machine in regioni e ne spariranno circa il 900. Sempre nel taglio alto, verso lo sciopero, i precari della sanità soffiano venti di guerra e poi al Molise toccano oltre 32 milioni. Sulle periferie urbane piovono fondi per il recupero. Ancora rapporto ISAT, incidenti stradali in calo, pedoni a rischio e poi continuiamo a parlare di adeguamento sismico alla Dovidio, lavori al via 915 aule per la struttura di via Gorizia. Passiamo alla cronaca. Termoli, sgomberato l'ex nautico bivacco per senza tetto, blitz della municipale. Isernia, nella casa del sesso si parla cinese, scoperta dei carabinieri. Economias, industria e banca siglano convenzione per il credito alle imprese. Ieri, l'assemblea elettiva delle società, parliamo in questo caso di sport, Piero Di Cristinzi, rieletto per la sesta volta al vertice della FIGICI Molise. Continuiamo adesso con le notizie di Primo Piano Molise. In risalto, non è sicuro, chiude anche l'asilo con l'Odi di Campobasso, a rischio nonostante i lavori di adeguamento antisismico per 400 mila euro terminati appena due anni fa. Da lunedì i bambini saranno divisi fra la Jovine e via Liguria. Stamane per la terza volta i genitori degli alunni della Don Milani protestano contro l'amministrazione. A proposito di scuole, Castelpetroso, martedì ripartono le lezioni nel nuovo polo scolastico. E poi il lavoro, GAM, il 25 a Roma sarà risolto, il rebus cassa integrazione. La triplice chiede un vertice con la regione prima dell'incontro con Amadori. ed alzano la voce 85 precari. Fuori dal piano assunzioni, fisioterapisti, tecnici e logopedisti scrivono a frattura. Vediamo nella spalla verso il referendum. Isernia, Gasparri e De Girolamo tirano la volata al no. E poi Campobasso, processo Federfarma, il tribunale assolve le iene. Passiamo adesso alla cronaca. Isernia, giro di prostituzione in città, denunciata a una 35enne cinese che reclutava giovani squillo. Termoli, tentato stupro a Riovivo. L'appello conferma la condanna a tre anni per il 28enne di Campobasso. Nel taglio basso invece è altro che pace fatta. Renzi per Severa. In Molise votano no perché la riforma riduce le indennità. L'ultimo affondo del Premier ieri sera dalla Gruber. Passiamo adesso allo sport. FIGICI di Cristin si resta in sella. Ora il calcio in 136 comuni. L'affondo proposte alternative poco credibili. Sesso mandato per il presidente d'eccellenza. Si parte con cinque anticipi. Superderby a Venafro. Ma i tifosi dell'Isernia non potranno esserci. Fustal, l'Isernia fonda lo Shaolin Soccer. Esciamina dallo Sturzo, Cuse e Venafro fuori. Vediamo adesso insieme le notizie di agenzia stampa Molise. In risalto il ministro dello sviluppo stanze a 165 milioni di euro per le aree di crisi e per le regioni in ritardo di sviluppo. Isernia efficientamento energetico nel 2017 inizieranno i lavori nella provincia Pentra. Attualità accoglienza umanitaria, rispettare le leggi ed evitare forzature. Campobasso, la città dei bambini, approvata la delibera al comune. E poi continuiamo con un'altra notizia di attualità. Filippo Monaco si schiera con Rosi Bindi rispetto delle regole e della legalità. Boccardo, Will, la cassa integrazione galoppa ed è strumento da rivedere. Ma da noi quando parte un progetto verso per la ripresa. Questo è l'interrogativo del leader della Will regionale. E poi, tenso struttura a Irino, si lavora per un nuovo impianto sportivo in città. Dai quotidiani locali passiamo a quelli nazionali. Vediamo insieme la prima pagina della Repubblica che titola Con Banca Italia, effetto voto sui mercati. Renzi, niente inciuci se vince il no. Firme false, otto grillini indagati a Palermo. La pentita rivela Beppe, mi disse, ci mettete nei guai. E poi Trump sceglie solo Falchi per la Casa Bianca. Messico sul confine, la rivolta delle aziende degli Stati Uniti d'America. Prossimiamo adesso il nostro appuntamento con le notizie del Fatto Quotidiano. A centro pagina, il referendum italiano di Praga ha due schede e può votare due volte. Nell'est Europa, l'ultimo caso di un sistema che non funziona. E che tempo che fa? Fazio non vuole di Maio e Diba, meglio Salvini. Nel taglio alto, manovra, cento modifiche, i ministri temono l'addio. Gli elettori spaventano, meglio correre ai ripari. E poi Unicredit va ai francesi e il governo lascia fare. Così controllerà anche Mediobanca e Generali. Continuiamo adesso il nostro appuntamento con le notizie di Libero. In risalto, quasi quasi faccio un partito. Senza incarico, senza poltrone e senza voler tornare al lavoro, l'ultimo delfino silurato da Berlusconi fonda l'ennesima molecola incazzosa del centro-destra. Si chiama Energie per l'Italia, ma non arriverà in bolletta. Parisi è impazzito. E a centropagina, via dall'Inter, Moratti torna ricco dopo sette anni in cassa ai dividendi della Saras. Nel taglio basso, le firme false dimostrano che i grillini non sono come gli altri, sono più fessi. Lisse elettorali è la vera storia del tarocco targato Movimento 5 Stelle. Vediamo adesso insieme le notizie della Gazzetta del Mezzogiorno. A centropagina, anche in questo caso, parliamo di politica. Renzi scommette sul sorpasso. Il premier, ieri sera a Bari, pronto alla verifica se il referendum non passa. L'allarme della Banca d'Italia, che prevede forti turbulenze sui mercati. E poi scosse elettriche martellate, uccisa a Canosa. Continuiamo con la cronaca. Nel taglio alto, a scuola, era stata drogata. 13 anni sviene per strada. E poi Sabrina e Cosima giocano la carta della Cassazione. Essere ibernata dopo la morte, il giudice dice di sì, è la prima volta. E sempre nel taglio basso, farmaci, antiepatite C e servizi dalla regione, arrivano 50 milioni. Passiamo allo sport, Bari, il grande tennis stasera da spettacolo. Passiamo adesso alle notizie di avvenire. In risalto, la spinta all'unità, l'eco dell'intervista di Francesco ad avvenire, cattolici ed evangelici incoraggiati al dialogo. Le parole del Papa danno speranza di altri passi ecumenici. E poi una ragazza inglese ebernata per il futuro, morta di cancro, sì del giudice, la scienza illusione. Referendum all'arme Banchitalia, turbulenze sul voto. Nell'ultimo giorno dei sondaggi, il no dato in vantaggio. Prossimiamo adesso con lo sport e vediamo insieme la prima pagina del Corriere dello Sport che titola con Juve prove di fuga. Carica allegri, entro Natale primi in tutto con Champions e Supercoppa, Higuain pronto, certo che c'è. Nel taglio alto intermondiale, Zhang Junor si lancia prima del derby, riporteremo il club al vertice, Montella rincorre Sacchi, battere i nero-azzurri e la Juve all'andata. E poi il Napoli va ad Udine con Keita nel mirino e Mihailovic da Gigio a Bellotti, i miei giovani d'oro. Proseguiamo con la serie B, Verona a picco per il barice all'esame Carpi ed estero Atletico Real l'ultima volta al Calderon. Nuoto la Pellegrini torna da regina, super tempo. Sempre sport, vediamo adesso la prima pagina della Gazzetta dello Sport. A centro pagina leggiamo derby 100% e 100 uomini che hanno fatto la storia della sfida a Milan-Inter. E poi nel taglio alto Juve, Pipita, sì, il Pupo forse, Higuain con Mandzukic e Scalpita che hanno 2000. Serie B clamoroso, show cittadella, il Verona ne prende altri 5 e poi Formula 1 e l'Harry Potter dei sorpassi, così Verstappen incanta il mondo. E con questo è veramente tutto, grazie per aver scelto l'informazione di Molise TV. Io vi lascio al meteo e vi auguro una buona mattinata. Arrivederci. Il meteo è offerto da Signora, dico a lei. Acconseglie assegni, spendi e risparmi di Molise TV. Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere. Previsioni del tempo per sabato 19 novembre. Una circolazione depressionaria continua ad abbracciare l'Italia centro-settentrionale, spingendosi verso le regioni meridionali. Umide correnti meridionali investono il sud-est italico, portando molte nubi e piogge sparse tra est Basilicata e medio-bassa Puglia. Spiccata variabilità anche tra Lucania, Alte Puglia e Molise, ma con fenomeni blandi o assenti. Temperature minime in lieve calo con estremi di 14 gradi, massime in aumento con pute di 18, ma vediamone nel dettaglio. Capobasso minima 9, massima 15. Isernia 10-15, termoli 14-18. Il meteo è stato offerto da Signora, dico a lei, a conseglie assegni spendi e risparmi di Molise TV? Corri a fare la spesa, spendi e risparmi conviene! Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere. Spendi e risparmi di Molise TV.